L'avvocato con la droga nello studio, anziana di 90 anni, legata e rapinata in casa, incidente sul lavoro alle pendici del Monte Scalambra. Ben trovati al TG, un avvocato del foro di Cassino è stato arrestato dalla polizia e deferito all'autorità giudiziaria dopo il ritrovamento da parte di unità cinofile di diverse decine di grammi di cocaina all'interno del suo studio professionale. Un'anziana di 90 anni è stata aggredita, legata e rapinata della catenina d'oro e di poche centinaia di euro in contanti a Castrocelo. Due rapinatori l'hanno presa alla sprovvista in giardino mentre stava rientrando in casa, rischiando di soffocarla con un telo a coprirle la testa. Un'azione fulminia mentre il marito era già a letto per dormire. Dopo qualche minuto la novantenne è riuscita a liberarsi e a chiamare le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini a iniziare dalla malevita locale, ossia persone che conoscono le abitudini dei due anziani. Incidente sul lavoro alle pendici del Monte Scalambra in territorio del comune di Serrone. Quattro operai albanesi di una ditta campana e di età compresa tra i 27 e i 34 anni sono stati travolti da un camioncino che si è sfrenato mentre stavano effettuando lavori di disboscamento. Tre sono rimasti feriti in modo non lieve e uno versa in gravi condizioni all'ospedale di Roma Tor Vergata. Piano regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo. Semaforo verde al comune di Frosinone in relazione a dieci progetti nel quadro delle strategie territoriali. Due milioni e 600 mila euro per l'acquisto di bus elettrici e altri 7 milioni per Parco del Cosa con percorso verde chiuso al traffico a motore, valorizzazione delle terme romane, messa in sicurezza delle aree archeologiche a Ponte del Rio, nuovi parcheggi in via Licino Refice, area Exagi, paridosso della stazione ferroviaria e via Maria, servizi digitali e altre utilità per la collettività. Cadono le accuse contro un cameriere di Aquino di 48 anni che è stato tre giorni in carcere insieme a un egiziano dopo l'arresto per violenza sessuale. Secondo le accuse i due avevano trovato a terra per strada cattolica una turista svizzera in stato confusionale per l'assunzione di droga e alcol e ne avevano abusato dopo averla condotta in una camera d'albergo, ma le perizie mediche hanno escluso ogni forma di violenza. Cinque fogli di via obbligatori del questore di Frosinone tra i destinatari una donna che rubava a benzina da un'auto in sosta nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone, un uomo giudicato colpevole di atteggiamenti persecutori nei confronti di una donna e un truffatore ad Ausonia. Mercoledì 24 luglio riaprirà il battente il santuario della Santissima Trinità a Vallepietra dopo i lavori per la messa in sicurezza del pellegrinaggio dei fedeli. A risentirci, alla prossima edizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!